Supera materialmente i confini quest'anno la marcia dell'ultima notte dell'anno che precede la giornata mondiale dedicata dal 1968 da Paolo VI alla pace perché scrisse allora a Papa Montini per il cristiano proclamare la pace e annunciare Gesù Cristo. Il tradizionale cammino si svolgerà il 31 dicembre 2023 tra Gorizia e Nova Gorizia, ossia tra la città nord-orientale italiana e quella ex-Yugoslava, ora slovena, città divise dalla guerra fredda del Novecento fino a una ventina di anni fa da un muro il cui ricordo rimane impresso sul Selciato. Un pezzo di terra attraversato da entrambi i conflitti del secolo scorso e oggi situato lungo la rotta migratoria balcanica. Così dal sacrario di Oslava, dei caduti italiani e austro-ungarici della prima guerra mondiale sul fiume Isonzo, i camminatori per la pace si fermeranno davanti alla sinagoga, faranno soste per ascoltare testimonianze di accoglienza dei profughi. Noi tra l'altro vorremmo darle un valore soprattutto di valori appunto, al di là del gioco delle parole, cioè di valori europei perché se c'è questa possibilità di lavorare insieme anche tra le due città è una possibilità che è offerta proprio perché si è cercato di fondare questa amicizia sulla pace, sulla riconciliazione. Tra i temi di riflessione anche il rapporto e il dialogo con le intelligenze artificiali al quale è dedicato il messaggio di Papa Francesco per la giornata per la pace del 1 gennaio 2024. La marcia sarà preceduta dal convegno di Pax Christi sulla possibilità di istituire nella città bipolare di Gorizia e Nova Gorizza la sede europea per l'addestramento dei giovani volontari dei corpi civili di pace.